In questo momento il paziente sta bene, nel senso che è vigile, orientato, non ha lesioni vascolari, non ha lesioni nervose, ha un sanguinamento che è normale in ciscina. Che tipo di ferita è stata? Una ferita che poteva uccidere? Non è una ferita che poteva uccidere, però è una ferita che poteva lasciare dei segni più importanti. Sicuramente se nel decorso della parotola fosse stata lesionata o marteria, qualche pericolo in più l'avrebbe potuto correre, fortunatamente non è successo.